Prosegue la polemica sul dimensionamento scolastico della Regione Lazio, ma innanzitutto facciamo chiarezza sulla vicenda che sta dando molta preoccupazione in tutto il territorio. I dimensionamenti sono i riaccorpamenti di quelle istituzioni che perdono alunni. Precedentemente i numeri erano per chi scendeva sotto i 600, ora si passerà invece ai 900. Sotto i 900 si accorperanno le istituzioni. Questo avviene da leggi di bilancio, questo serve per fare risparmi. Poi la Regione Lazio cosa fa? È il momento terminale di un percorso, avrebbe dovuto essere questo. Si parte dai municipi, si arriva ai comuni e poi si arriva alla Regione che è infine quella che decide. Cosa è successo? Che non abbiamo avuto i livelli intermedi e quindi la democrazia necessaria per riuscire a favorire un passaggio del genere e operare delle scelte oculate che abbiano un senso non c'è stato. Ma in che modo il dimensionamento andrà a colpire anche il territorio? Per entrare nel merito delle nostre scuole, del nostro territorio, in particolare l'istituto comprensivo Tacito Guareschi e l'istituto comprensivo Laurina 710 che adesso si chiama Bernardini. Cosa succederà ora? Che queste due comunità ora non si conoscono e non sono in grado di lavorare in maniera cooperativa. Rimarranno due entità separate dove i genitori di Vitinia per fare le iscrizioni dei figli dovranno andare a 11 chilometri sulla Laurentina e per avere un certificato, per parlare delle menze, per parlare di ogni cosa, da un punto di vista amministrativo andranno lì. I plessi rimangono dove sono. Si perde la continuità, si perdono i docenti che ci stanno, si perde la storia di queste scuole. Dello stesso avviso la Presidente della Commissione Politiche Sociali del decimo municipio. La decisione è grave. Tutte le volte che si chiude una scuola noi perdiamo un punto di riferimento, un presidio per la democrazia, per la legalità, per la crescita dei ragazzi. Ecco allora che vuol dire? La scuola per risparmiare qualche soldo, perché questo è, si tratta di risparmiare su un dirigente scolastico o su un direttore dei servizi amministrativi, viene accorpata e tu perdi un punto di riferimento importante. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale Eleonora Mattia, che ha depositato una mozione per chiedere alla Giunta di sospendere l'attuazione della delibera dello scorso 4 gennaio. Allo stesso tempo chiede anche di convocare con urgenza una riunione con tutte le istituzioni interessate, al fine di individuare i percorsi condivisi, percorsi che ad oggi sono decisamente mancati.